è arrivata è arrivata è arrivata siamo qui con la primissima bambola di questo nuovo live action disney della sirenetta siamo qui con la bambola budget vi spoilerò che sono già in attesa di altre due bambole di ariel ma intanto ragazzi iniziamo a guardare lei perché sono curiosissimo se ne sta parlando tanto ne stanno parlando tutti manco solo io e quindi iniziamo subito con questo video essendo lei la bambola budget e quindi quella più semplice questo video probabilmente sarà abbastanza corto o comunque molto più corto degli altri ma chi se ne frega a noi interessa la bambola e quindi iniziamo a guardare la sua scatola nella parte qui in basso troviamo il logo della sirenetta in inglese anche in altre lingue troviamo anche sebastian un'immagine del fondale marino dei coralli e non so se c'è anche flounder forse sì da questa parte c'è anche flounder e ovviamente l'immagine di come sono rappresentati in questo nuovo live action tutto il resto della scatola invece è una semplicissima vetrina trasparente che ci lascia vedere praticamente tutta la bambola all'interno con l'unica particolarità che qui sopra è realizzata come se fosse una specie di nuvoletta non ho capito come mai ma l'hanno fatta così nella parte inferiore del retro della scatola troviamo una valanga di informazioni che non ci interessano e poi invece qui sopra al centro c'è un'immagine una foto della bambola acquistata quindi della nostra ariel qui troviamo ovviamente il logo della sirenetta e il logo disney qui ci dicono che appunto lei è ariel ariel in versione sirena e in tutte queste scritte qui a lato ci sono delle avvertenze che adesso vi leggo perché mi hanno fatto un po' sorridere qui in italiano c'è scritto i giochi con l'acqua a volte creano disordine proteggere le superfici di gioco prima dell'uso svuotare risciacquare pulire e asciugare accuratamente tutti i componenti prima di riporli mattel lo sappiamo anche noi che bisogna riordinare dopo aver giocato e invece in questo punto troviamo questo qr code dove c'è scritto non lo so non riesco a leggere a in teoria scannerizzandolo possiamo ascoltare la soundtrack del film quindi vado a prendere il mio telefono apro la fotocamera e vado a scannerizzare questo qr code e si apre questa pagina con il logo ovviamente del film qui sotto ci fanno vedere tutti i posti in cui è possibile ascoltare la colonna sonora e qui c'è anche la copertina ma non funzionano non funzionano ma non funzionano probabilmente perché ancora presto probabilmente lo attiveranno all'uscita del film ma se faccio play qui invece qualcosa è partito ma non si sente nulla ok è partita però mi conviene abbassare perché poi mi limitano il video per copyright però c'è praticamente il pezzettino che sentiamo cantato nel trailer ma visto che la sua scatola è semplicissima abbiamo già finito e quindi procediamo con l'unboxing ed eccola qua fuori dal box come vedete manca la pinna finale perché arriva staccata ma ovviamente poi andremo a vederla andremo ad attaccargliela per il resto ragazzi devo dirvi che secondo me mattel anche per questa versione budget ha fatto davvero un ottimo lavoro e adesso capirete perché infatti iniziando dal suo viso intanto devo dirvi subito che per fortuna è leggermente pixelata la stampa ma non tanto quanto le barbie extra quindi sì anche in questo caso non c'è una stampa perfetta ma è comunque una stampa decisamente molto più accettabile confronto a quella super pixelata il viso a me ricorda tantissimo il viso dell'attrice e tra quelli che ho visto online di altre bambole secondo me mattel ha fatto il lavoro migliore a livello di somiglianza in ogni caso i suoi occhi sono castani sopra gli occhi ha due ombretti perché ha un ombretto più chiaro che sembra quasi bianco grigio poi sopra un altro ombretto marroncino che sfuma verso il sopracciglio le sue sopracciglia invece sono molto molto definite e sopra al suo sopracciglio sinistro c'è anche il neo che l'attrice ha realmente in viso e mattel l'ha riproposto sulle labbra indossa invece un rossetto nude ma un po brillantinato quasi perlato sulle guance c'è un po di blush ma soprattutto non so se lo notate così eccola così si riesce a notare sugli zigomi le hanno messo questa specie di illuminante come per farla sembrare bagnata non c'è su tutto il viso ad esempio in fronte non c'è c'è proprio solamente nei punti secondo me più belli che sono appunto gli zigomi guardate come riflette in questi punti quindi complimenti mattel per questa idea davvero finora wow ovviamente anche a lei non possono mancare i baby hair che ha appunto anche nel film e sono stati disegnati lungo tutta l'attaccatura frontale dei capelli e anche in questo caso credo che siano un disegno nuovo non mi pare di aver mai visto i baby hair stampati in questo modo con questo disegno su un'altra barbie magari una barbie extra dove effettivamente li stiamo trovando veramente tantissimo ma ovviamente come sempre passiamo anche i capelli che in questo caso non mi piacciono molto però effettivamente sono fedeli al film perché abbiamo due fibre di capelli diversi entrambe castane semplicemente marroni ma come vedete qui sopra escono tutti questi dreadlocks questi rasta chiamateli come volete che dovrò per forza andare a chiudere qui in fondo con un goccino di smalto per fare in modo che non si disfino ma nella parte sotto invece l'hanno messo dei capelli normali semplicemente un pochino onde non ho capito perché legare questa ciocca al sobraccio quindi sleghiamola subito e se li guardiamo anche da retro sono appunto semplicemente castani ma come vedete i rasta sono in una quantità davvero perfetta per coprire tutta la chioma ma come vi dicevo prima sotto invece ci sono dei capelli normali una fibra normalissima che è leggermente incasinata ma ragazzi è la fibra che piace a me la fibra buona di mattel non hanno messo i capelli diciamo da classica play line ma sono invece molto molto morbidi anche se questa bambola è pensata per essere sicuramente giocata e soprattutto anche in acqua comunque mattel ha messo davvero una buona fibra e mi sa che andrò anche a giocarci in acqua perché mi ispira davvero un sacco una cosa che un pochino mi dispiace ma che comunque anche in questo caso è sia fedele al film che fedele al fatto che questa bambola è una budget quindi la più economica ha il costume sul seno il reggiseno semplicemente stampato non è stato realizzato di stoffa non c'è nulla di stoffa in questa bambola infatti come vedete è proprio stampato verde acqua che sfuma in viola sul suo busto con anche qui sopra questo bordino un po' particolare sul retro però la sfumatura verde purtroppo non c'è e infatti se la guardiamo su un lato vediamo che c'è proprio la troncatura di colore ed è un peccato sarebbe stato bello se la sfumatura continuasse anche sul retro la sua coda invece inizia con queste due parti in rilievo che non so dirvi se dovrebbero essere delle pinne o cosa comunque con questo bordino in rilievo verde acqua e nella parte qui dell'articolazione è solo semplicemente verde non è stata colorata come invece è stata colorata su tutto il resto della coda infatti se scendiamo piano piano a guardarla vediamo che le hanno stampato tutti questi colori che richiamano proprio i colori che ha lei nella coda del film lungo tutta la coda fino proprio alla fine dove poi andremo ad agganciare la pinna infatti troviamo come vedete queste sfumature fucsia troviamo tutti questi puntini bianchi troviamo delle sfumature verde acqua delle sfumature blu poi invece qui sopra un sacco di verde ma anche in questo caso purtroppo se le andiamo a girare vediamo che il colore sul retro non c'è è stata colorata solamente sul davanti e in più purtroppo spero si riesca a notare la stampa non è delle migliori qualità in questo caso sembra essere stata stampata qua vedete addirittura alcune righine sembra essere stata stampata come quando vengono stampati gli occhi o i visi pixelati delle altre bambole qui sotto comunque ha anche queste due pinne ovviamente di plastica alla fine della sua coda quasi all'inizio della pinna e in questo caso le hanno fatte bianche con delle leggeri sfumature rosa le articolazioni di questa bambola sono davvero molto semplici sono anche abbastanza poche però come vi ripeto dobbiamo sempre ricordarci che la versione più economica quindi la versione budget ed è articolata alla testa alle spalle e alla vita infatti può muovere la testa in tutte le direzioni può muovere le braccia in avanti e lateralmente e può anche per fortuna piegare la coda e sedersi a differenza ad esempio delle mermaids di mga che questa cosa non riescono a farla ma visto che le manca la pinna andiamo subito a prenderla e a guardarla e ragazzi è bellissima è veramente bella di base è un blocco di plastica verde acqua semi trasparente con tutti questi brillantini all'interno con anche però disegnati e colorati qui davanti sono sia in rilevo che colorati questi dettagli fucsia viola verde acqua con tutti i puntini proprio come nel film l'unica cosa anche in questo caso sul retro purtroppo non c'è assolutamente nulla è un peccato quando queste bambole sul retro le lasciano così spoglie così senza niente perché anche solo magari un colore leggerissimo non dico tutto questo lavoro ma magari semplicemente una sfumatura rosa avrebbe comunque arricchito un pochino questa pinna però devo dirvi che è davvero molto bella e in più la cosa che mi ha stupito è che in questo caso è stata colorata meglio non è stata colorata come in questo caso con le righine la pixelatura ma questa è stata colorata davvero molto meglio per andare a mettergliela semplicemente andiamo a inserirla qui alla fine della sua coda e spingiamo una volta che ha fatto clac eccola con la sua coda e guardate ragazzi che scena che fa con la sua coda attaccata con la sua pinna attaccata alla sua coda che dire io la trovo davvero molto bella è vero è una bambola semplice è vero non ha niente di stoffa è vero ha poche articolazioni e la coda è stampata solamente sul davanti e neanche con una stampa così di alta qualità però io la trovo davvero bellissima per essere una bambola budget mattel ha davvero fatto un ottimo lavoro in più stavo notando che anche il busto qui davanti non è il classico busto di barbie praticamente la pancia non è la classica pancia di barbie ma è stata ridisegnata assieme a tutto il resto un'altra cosa che sinceramente apprezzo moltissimo ma quindi visto tutto questo mio entusiasmo posso urlare al triple wow assolutamente no ovviamente ragazzi rimane una bambola budget rimane una bambola che in teoria dovrebbe costare poco anche se non costa proprio pochissimo ma rimane una bambola pensata per il gioco e basta mattel ha già realizzato molte altre versioni che sono sicuramente più studiate più accessoriate più dettagliate di questa per accontentare anche i collezionisti una cosa di questa bambola però che mi piace davvero tanto che mi ha entusiasmato così come mi sentite felice in questo momento è il fatto che quando dicevo che riponevo molte speranze nella realizzazione delle bambole disney da parte di mattel questa è la prova che avevo ragione semplicemente perché mattel riesce comunque a dare una femminilità un'eleganza delle proporzioni una bellezza estetica che molti altri brand non riescono a dare alle bambole e io in questa bambola tutte queste cose per fortuna le vedo e quindi per quanto sia una bambola budget semplicissima anche con qualche difetto io la trovo comunque davvero una bambola bellissima se la volete anche voi vi lascio qui sotto il link amazon nell'info box come sapete se acquistate da lì mi aiutate anche a sostenere il canale se la acquistate dal mio link o da qualsiasi altro posto fatemelo vedere taggandomi in una storia su instagram che sono curiosissimo di vedere quanti di voi realmente la prenderanno lei o qualsiasi altra versione di ariel o qualsiasi altra bambola insomma taggatemi sempre io adesso però aspetto di sapere voi cosa ne pensate ve l'ho mostrata ve l'ho fatta vedere nel dettaglio e quindi ditemi cosa ne pensate voi di questa bambola è troppo budget o siete d'accordo con me che per essere una bambola economica è davvero molto carina scrivetemelo qui sotto in un commento io intanto spero che questo video vi sia piaciuto che vi sia tornato utile di avervi tenuto compagnia qualsiasi cosa positiva se ci sono riuscito un like qui sotto iscrivetevi al canale se ancora non avete fatto seguitemi su tutti i miei social e anche come toys expression dolls nel mio secondo profilo instagram intanto ragazzi vi saluto vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video che potrebbe essere sempre a tema la sirenetta ciao